Il nostro condottiero, Neda Spialisà Tra i padali con il numero uno, l'argentino, Leandro Cicci Zola Con il numero cinque, Matteo Bianchetti Con il numero otto, lo spagnolito, Prados, Opas, Ronde Bonile numero sette, Francesco Millet Bonile numero diciotto, Super Mario Chiu Bonile numero ventuno, il Brasileiro, Adesso, Neda Silva, Nè Nè Bonile numero venticinque, Marco Milo Con il numero trenta, Josie preso da Mbapp Con il numero trentuno, il capitano, felice e piccolo E lui con il numero trentadue, Zola Camazzi Oh 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 1.92 il tipo di no e con il 1.3 Filippo Esco